Saint-Valors è una città bretone fortificata nel dipartimento francese Île-Vilaine, sul canale della Manica. Il centro storico, chiamato Intramuros, è costruito su un'isola collegata alla costa. Disposta al fenomeno delle maree, la cui ampiezza supera i 10 metri, è famosa per essere stata città di corsari. Ed è oggi considerata la capitale della Vela in Francia e porta di partenza della Rue Pourun, la regata in solitario che attraverso l'Atlantico porta i concorrenti alla Guadalupa. La statua del grande corsaro surcouf, eretta a Saint-Malo, indica con il dito la direzione dello stile Inghilterra. Jacques Cartier, il colonizzatore del Quebec, era originario di Saint-Malo. Distrutta quasi interamente dai bombardamenti americani durante la Seconda Guerra Mondiale, agosto 1944, alla Liberazione venne decostruita rispettando l'architettura originale. Grazie a tutti.